E' stato individuato poco dopo mezzogiorno il corpo senza vita di Carlo Manfroi, 63 anni, di Censenighe, uscito sabato per l'abituale passeggiata e mai più rientrato. L'uomo era uscito in mattinata insieme al suo cane dalla propria abitazione a Kenet verso Bricoli, imboccando uno dei sentieri sotto il monte Pelsa. Alle 13.30 il cane era ritornato a casa da solo, intorno alle 16 la moglie di Manfroi aveva chiamato i soccorsi. Un testimone lo aveva incrociato e salutato intorno alle 11.30 ma non si sapeva altro. Sulle tracce del 63enne una settantina di persone tra vigili del fuoco, soccorso alpino, guardia di finanza, cani molecolari, protezione civile e associazione nazionale carabinieri. Le ricerche sono proseguite per giorni con sorvoli in elicottero e per l'ustrazione a piedi lungo i sentieri. A ritrovare il corpo una squadra composta da finanzieri e volontari del soccorso alpino di Agordo che stava effettuando delle calate a valle di località Bricoli nella direzione indicata dai cani molecolari. La salma si trovava in una scarpata. Manfroi era stato partiere nel Belluno Calcio degli anni 70.